allora lei li ha visti in vallupaia a fare merenda e c'era anche il toscana maremma maiala dunque allora io è sempre la toscana maremma maiala e gli andiano anche su per la vallupaia a fare delle lampredotte e una volta c'è chi è che preparava il lampredotto il lampredotto lo preparava i bellini mi ricordo e lo faceva cocere anche se non quattro ore e mi ricordo una volta gli avevano un sacchetto con tre peli di fia e mi disse e ci fa la salsina verde per lampredotto e la mia è più pizzicante e la mia è più saporita a volte mangia macchina chiude per farciardo mai che dici o bellini o sta calmo o bellini ok o te ne ricordi signor giudice la milizia e buon via se la seguita dell'altro han teso gli ha visti anche a bacarello si è c'era fissi e gli vivi mi farvi un pomeriggio e gli avevano delle paniche dell'acqua che avevano andati a pigliare l'acqua su bacarello io mi ricordo signor giudice che gli vivi e gli disse che fu fai e dice sono a pigliare l'acqua e più buona è più ghiaccio che è più saporita che fracchero e mi ricordo gli disse ai bellini che ma non sei andati su un pello vallo faia a pigliare l'acqua c'è più buona e la c'è più fresca questo te lo può dire anche e i bellini mi rispose guarda stanno andati in vallo faia perché c'è casino e sarà stavate a tre e mezzo ma lei lo vide questo fai io e vedi degli sfinacini che abbiamo andato a tagliare sui taglieri abito sempre l'acqua l'avevamo presa in vallo faia per dirlo a un bacarello e non non lo so dire abito